Uno stile di vita sano e corretto ci aiuta a mantenerci in salute ma è fondamentale fornire le informazioni utili per alimentare la salute ed innalzare la qualità della vita. E questo lo scopo dei tre villaggi che saranno allestiti in piazza della Concordia Salerno che sabato 25 maggio dalle 10.30 alle 18 diventa piazza della salute. L'iniziativa organizzata dall'ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Salerno presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa mira a ribadire l'importanza del trinomio alimentazione, sport e salute. Il primo report sulla salute alimentare infantile redalto da Help Code, l'organizzazione che dall'88 lavora in Italia e nel mondo per tutelare i diritti dei bambini in collaborazione che l'Istituto Gaslini di Genova e l'Università degli Studi di Genova ha certificato che anche in Italia la malnutrizione infantile è un fenomeno ancora molto diffuso. Nel nostro paese un bambino su tre infatti in sovrappeso e francamente obeso a causa di abitudini alimentari non corrette ed uno stile di vita sedentario con un impatto sul sistema sanitario nazionale stimato in circa 4 miliardi e mezzo di euro all'anno. Tra le regioni italiane maggiormente a rischio la Campania purtroppo svetta i primi posti. Il progetto Piazza della Salute alimenta la salute con stili di vita corretti intende infatti fornire corrette informazioni alla popolazione sull'alimentazione e sugli stili di vita da perseguire. Sabato 25 maggio dunque dalle 10.30 alle 18 nei tre villaggi della Salute allestiti in piazza della Concordia Salerno si svolgeranno attività di screening e visite mediche gratuite. Devo dire la regione da questo punto di vista si sta attrezzando appunto per offrire ai cittadini a più livelli un adeguato diciamo approccio alle tematiche della prevenzione. Naturalmente in generale è il sistema sanitario che è predisposto verso la prevenzione che rappresenta il primo tassello della salute dei cittadini. Se noi riusciamo appunto a dare ai cittadini una predisposizione verso la prevenzione possiamo fare un grosso passo avanti a tutti i livelli. L'Ordine dei Medici dunque ha accolto con molto favore questa iniziativa che tra l'altro è organizzata insieme alla Col di Retti e che vedrà quindi impegnati in piazza non soltanto i medici che parleranno alle famiglie. Io come pediatra sarò presente dunque proprio per informare le famiglie sui corretti stili di vita. Quello che noi facciamo normalmente nei nostri ambulatori ma lo faremo su più larga scala ci auguriamo e ci sarà un'area tematica dedicata all'alimentazione corretta quindi proprio curata dalla Col di Retti. Ci saranno anche degli chef verranno offerti dei prodotti a chilometro zero della nostra regione e ci sarà anche un'area sportiva in cui verrà implementata diciamo l'attività fisica che è un ottimo complemento appunto a un corretto stile di vita che riguarda prima l'alimentazione e poi l'esercizio fisico. Quindi diciamo è un'iniziativa che l'Ordine dei Medici ha sposato in pieno e che rappresenta speriamo un primo tassello di ulteriori iniziative in questo senso.